Speciale, ho cliccato troppo, forse ando sbagliato dal fondo, non ho sbagliato io. Speciale, speciale, partiamo con questa parola, è una bellissima parola. Speciale vuol dire non comune, con caratteristiche particolari, assolutamente originale. Sì, lì in fondo leggete quello strano, bizzarro. C'è stato un tempo in cui mi è sembrato molto intelligente e furbo definire le persone con alcune caratteristiche come speciali. Badate bene, stavo in buona compagnia, tante persone la pensavano come me. Poi un giorno a tavola, i miei tre figli hanno iniziato a insultarsi, la parola è giusta, insultarsi reciprocamente, dicendo sei un bambino speciale. Lì ho capito che qualcosa era andato sorto, che forse non basta cambiare le parole per cambiare le intenzioni. E poi il linguaggio si è evoluto, virgolette. E a un certo punto mi è capitato di sentire più recentemente nelle classi, ragazze e ragazze, insultarsi, dicendo hai la 104, sei un 104. È anche un trend su TikTok. Badate bene, spesso non sanno neanche che cosa sia la 104. È successo anche a una persona che stimo molto, che ho conosciuto online, e durante una lezione per ragazzini di 11-12 anni a un certo punto ha sentito esattamente queste parole e a quel punto ha fermato la lezione e ha detto, bene, mio figlio ha 12 anni e ha la 104 perché ha appena ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla e quindi parliamone. Però, Barbara dai, non si può più dire niente, non possiamo più dire nessuna parola. Ecco, questo me l'ha detto sempre un ragazzino di prima media durante uno dei miei bellissimi incontri sulle parole, sul linguaggio stile. E a quel punto io l'ho guardato e gli ho detto, beh, ma fammi un esempio, cos'è che non si può più dire? Lo dicono in tanti, è peraltro non solo i ragazzini di prima media. E lui mi ha guardato e non mi ha saputo dire esattamente cosa non si può dire. Perché? Perché in realtà, se ci pensate bene, ci sono un sacco di cose che si possono ancora dire e che, ahimè, vengono ancora dette. Qui vedete un riassunto di quello che è un'indagine che esce tutti gli anni di Vox Diritti. Questa è la mappa dell'intolleranza del 2022. Bene, questa mappa dell'intolleranza disegna qual è l'odio nei confronti di alcune categorie di persone, analizzando 76 parole sensibili. E cosa ci dice questa mappa? Ci dice che l'odio è sempre più polarizzato, è sempre più verticale, è sempre più presente. Ci dice che per il settimo anno consecutivo la categoria più adatta online sono le donne. E poi ci sono le persone con disabilità. Guardate il dato. Io non ci vedo tanto bene, lo guardo con voi. 33% gli omosessuali, gli immigrati, eccetera. Purtroppo si possono dire ancora tante cose. E allora, cosa possiamo mettere subito in chiaro? Possiamo mettere subito in chiaro che è il tempo di smettere di usare le parole, le caratteristiche delle persone, come insulti. Ce lo spiega bene il nono principio del manifesto della comunicazione non ostile. Il manifesto della comunicazione non ostile è uno strumento creato da parole ostili, che è un'associazione proprio che si occupa di contrastare il linguaggio ostile online, di sensibilizzare contro la violenza delle parole. E il manifesto è composto da dieci principi. e il nono ci dice proprio gli insulti non sono argomenti. Questo ci deve essere chiarissimo. Allora, però, magari voi a questo punto mi dite ok, siamo nel 2023, quasi 24, dai, arrotondiamo. L'abbiamo capito un po' tutti, che non possiamo usare le caratteristiche delle persone come insulto, perché è un doppio insulto, eccetera, eccetera. Tutti, quasi tutti. Però la sensibilità comune va in quella direzione. E le microaggressioni? Le microaggressioni? Cosa sono le microaggressioni? Le microaggressioni sono quei comportamenti, quegli atti anche linguistici, che in apparenza non sono eclatanti, non sono quegli insulti proprio così spiattellati, ma rivelano una mentalità di tipo razzista, una postura discriminatoria, volontaria o involontaria. Poi su quell'involontaria ci torniamo. E allora sono quei piccoli atti quotidiani, quelle piccole parole, che in accumulo poi producono rabbia, producono ansia. Alcune volte fanno sentire la persona così. Ma forse è vero questa cosa che tu mi stai dicendo. Volontario e involontario. Sì, c'è qualcuno che lo fa volontariamente, qualcuno lo fa perché non ha una cultura abbastanza adeguata. Ma io vorrei che non ci occupassimo in questa fase delle intenzioni. Pensiamo all'effetto. Che sia involontario o non è involontario, all'effetto c'è sempre. E allora abbiamo parole per etichettare. è malato. Prima di dire è Filippo, è Gianluca, è Alessia, è Simona. Abbiamo parole per dire ha una malattia incurabile. Attenzione. Ci sono delle malattie che sono inguaribili. Ma la cura, incurabile, è diverso. Possiamo sempre curare. È invalido. Bellissimo sentire dire che non sei valido. Oppure ci sono quegli atteggiamenti pietistici. Pietistici, che sfiga, detto una mia amica che aveva appena ricevuto la diagnosi. Oppure, poverino, ma io non ce la farei. Fino a sei un eroe, ma sei una persona speciale, ma che bella persona. Perché tutte le persone con sclerosi multiple e con l'NMO sono carine, belle, simpatiche, gentili, intelligenti, eccetera, eccetera. Ecco, perché si chiama inspirational porn? Perché oggettifica la persona. E soprattutto la oggettifica a fini assolutamente personali dell'interlocutore. Per sentirsi buono, per sentirsi meglio, per automotivarsi. E poi andiamo a parole per minimizzare. Sembri normale, ma magari siamo normali, no? Se lo dici non si vede, beh, allora starò zitto. C'è di peggio, spoiler, c'è sempre di peggio. Oppure hai dei vantaggi. O ancora, quelle domande, come ti è venuto? Ma cosa hai fatto? Cosa hanno fatto i tuoi genitori? Tutte quelle domande che portano a dire, beh, tutto sommato, se tu hai questo problema, io cosa ci posso fare? Attenzione, magari sul problema no, ma sulle condizioni che rendono possibile stare bene all'interno della società, su quelle ci possiamo lavorare tutti. Allora, perché le parole sono importanti, perché dagli stereotipi si passa ai pregiudizi e poi si passa alla discriminazione. Da uno stereotipo come pensare a una persona con SM o con NMO, come una persona che comunque fa fatica. Ecco, poi si passa a sentirla debole, a sentire compassione e poi il pregiudizio diventa che non ti prospetto quella esperienza lavorativa, quella gita scolastica, perché ho già deciso per te alcune cose. E allora ricordiamoci, non sono solo parole. Le parole hanno sempre conseguenze, piccole o grandi, ma hanno sempre conseguenze. Per esempio le conseguenze delle parole sono l'incertezza, l'ansia, la fatica che si aggiunge alle fatiche. E soprattutto in un mondo che è fatto solo di parole come il web, questo è ancora più evidente. Allora il primo principio della comunicazione in uno stile dice proprio virtuale, reale. Dico, scriverete solo cose con il coraggio di dire di persona. Lì dobbiamo stare ancora, se possibile, più attenti alle parole. E allora qual è il percorso delle parole? Il percorso delle parole è che parole sbagliate, poi abbiamo visto, no? Sono delle definizioni che cambiano la percezione, cambiano l'atteggiamento e scaturiscono infatti di discriminazione, pregiudizio, stereotipo. E le parole invece, quelle corrette, fanno lo stesso percorso, ma arrivano a creare una società più inclusiva e senza barriere. Allora il tempo, è il tempo di creare un linguaggio ampio, è il tempo di creare una cultura inclusiva. Il terzo principio dice proprio, le parole danno forma al pensiero, mi prendo tutto il tempo necessario esprimerà al meglio quello che penso. E quindi, stringiamo, e quindi forse la cosa più importante è partire dalla persona. Se io nel definire qualcuno, se ho l'urgenza di definirlo, utilizzo sempre prima persona, difficilmente sbaglio. La persona, l'identità. Ecco, un approccio che dà la precedenza alla persona, enfatizza il soggetto e non la sua condizione. Ad esempio, prima la persona significa che quando mi riferisco a una persona con una malattia, faccio riferimento alla condizione solo se è strettamente necessario. Guardate l'esempio. Miss con sclerosi che fa anche la cantante. Che fine ha aggiungere questo? Influisce sulla performance canora o sulla bellezza della persona? Ha senso? Aiuta? Ecco, ma prima la persona significa che siamo tutti uguali? Allora, adesso vi propongo un gioco. Siete stati seduti abbastanza. Vi propongo un gioco. Sono una frana a spiegare i giochi. Per cui, voi capitemi, dai, aiutatemi. Allora, il gioco funziona così. Lo devo leggere perché sennò faccio casino. Allora, alzatevi o rimanete in piedi, oppure se non potete alzarvi, alzate le braccia, se vi riconoscete nella definizione che darò. Altrimenti restate seduti. Questo vale per la prima domanda. Per le domande successive sarete o in piedi e seduti a seconda di cosa avete risposto. Ve l'ho detto che sono una frana a spiegare. A questo punto, continuate allo stesso modo, vi alzate e rimanete seduti, se vi riconoscete nella definizione, oppure abbastate le braccia, insomma. Proviamo che è più semplice. Fidatevi. Pronti? Siete pronti? Vediamo. Chi è giovane? Chi porta gli occhiali? Chi ha già comprato qualche regalo di Natale? Maledetti vi odio. Chi è sempre in ritardo? Chi è nato in Italia? Chi ama cucinare? Chi preferisce mangiare? Chi gioca ai videogiochi? Chi studia? Chi lavora? Chi ogni tanto si guarda allo specchio e non si piace? Siamo tanti, eh? Chi dice per intero la filastrocca dei mesi per ricordarsi quanti giorni è ottobre? Trenta giorni hanno breve. Chi è innamorato? Chi qualche volta si sente solo o sola? Chi qualche volta ha detto a qualcuno, handicappato o handicappata? Chi ha Birial? Birial. Qualcuno non sa neanche cos'è. Chi è felice di essere qui? Applauso. Potete sedervi. Gioco per farvi... Questo gioco semplicemente per dire che ognuno di noi, se abbiamo guardato quando ci siamo alzati, quando ci siamo seduti, ognuno di noi ha un'intersezione assolutamente speciale di caratteristiche. La diversità non va negata. La diversità è una sfaccettatura della natura umana, forse l'unica cosa che abbiamo in comune. E nessuno è solo la sua malattia, tanto quanto io non sono quella con gli occhiali neri, tanto quanto io non sono quella che non ha ancora comprato nessun regalo di Natale e non lo farà fino al 24 dicembre. Allora quali sono gli strumenti? Se siamo tutti diversi, capite che diventa difficile una babele, Se siamo tutti diversi, possiamo comprenderci, essere attenti agli altri usando uno strumento potentissimo che è l'ascolto. Un ascolto fatto per capire, non per rispondere, che è molto diverso. Il quarto principio ce lo dice molto bene. Prima di parlare bisogna ascoltare. Sapete, la diversità è stato detto più volte prima, va in accumulo. Per cui ci sono categorie di persone che magari non riescono ad accedere, si parla proprio di discriminazione multipla, no? Ci sono categorie di persone che magari non riescono ad accedere ad alcune cure sanitarie perché hanno, oltre ad una malattia, anche altre caratteristiche. Colore della pelle, fatto di essere donna uomo, fatto di appartenere a una minoranza. Per cui davvero nella unicità di ognuno di noi ci sono dentro tante diversità. E allora la prima cosa da fare quando stiamo di fronte a un'altra persona è chiedere. Chiediamo agli altri come vogliono essere descritti. Non diamo per scontato di sapere tutto perché viviamo una condizione. C'è un manifesto bellissimo, oltre al manifesto che vi sto raccontando, che è il manifesto della comunicazione a nonostile inclusiva, che dice proprio, sempre al quarto principio, di fondare relazioni proprio sull'ascolto paziente, sull'empatia. E allora un suggerimento. Cerchiamo i modi in cui non siamo inclusivi. Siamo tutti bravi a sentirci inclusivi. Quali sono i modi in cui io non sono inclusivo? Perché non possiamo sfidare i pregiudizi se non siamo consapevoli dei pregiudizi che ognuno di noi ha. Davvero un cambiamento culturale richiede tempo. Richiede tempo per coltivare una consapevolezza. E come rispondiamo alle microaggressioni? Come rispondiamo nella vita di tutti i giorni? Beh, prima di tutto, ricordandoci, è difficile che quando le persone ci rivolgono alcune parole di critica, che facciamo fatica ad accettare anche, ecco, queste parole in realtà dicono molto di più della persona che sta parlando che di noi, del suo sistema culturale. non prendiamoci la responsabilità di quelle parole e non sempre dobbiamo rispondere. Alcune volte anche il silenzio comunica, per cui alcune volte è giusto rispondere, alcune volte, come dice il diecimo principio, possiamo anche non rispondere. Il silenzio è anche quello di due parole che quando ho incominciato a conoscere il mondo della SM, della NMO, mi sono subito risultate chiare, invisibili e imprevedibili. Sapete una cosa? La maggior parte delle persone, probabilmente come me fino a qualche mese fa, non sa niente di SM, figuriamoci di NMO. Ecco, quindi davvero questa parte dell'imprevedibilità dei sintomi nascosti chiede davvero una cura e un tempo per trovare delle parole, per raccontare. C'è un tempo, c'è una frase famosa di Frida Kahlo, probabilmente l'avete sentita, se devo chiedertelo non lo voglio più. Bellissimo, anch'io auspico a un mondo dove le persone siano gentili a prescindere da chi hanno di fronte, dal problema che può avere chi incontro. Beh, però è un grande inganno, attenzione, è veramente un inganno con cui siamo stati cresciuti. C'è una teoria che si chiama economia delle carezze, le carezze sono dei riconoscimenti verbali e anche fisici sicuramente, come una carezza. Ecco, che ci dice, beh, non chiedere se hai bisogno, perché gli altri se ne devono accorgere. Spoiler di nuovo, gli altri non hanno la sfera di cristallo. E allora un abbraccio chiesto non ha meno valore di un abbraccio spontaneo. Perché? Perché un abbraccio che mi viene fatto spontaneamente può essere tanto falso quanto un abbraccio che io chiedo. Allora davvero impariamo che si può, si deve chiedere le carezze di cui sentiamo il bisogno, che desideriamo. Perché la diversità è un fatto, l'inclusione è una scelta, le differenze sono un dato di fatto, le differenze sono effettive, lo stigma è nelle relazioni e allora l'invito è proprio quello di ripartire dalle relazioni, le relazioni che sono il cuore nella vita quotidiana, nel web, ovunque le relazioni sono proprio il centro di tutto. Anche le parole possono essere carezze, possono creare dei punti con gli altri, è necessario trovare delle parole di relazione, di cura, di attenzione. Ci vuole tempo per costruire dei ponti. Allora ogni persona che affronta un problema ha una possibilità unica di raccontarsi, ognuno di noi ha un'esperienza unica, che è unica tra le unicità. E allora la domanda è, ognuno col suo tempo, ognuno in questo tempo, come vogliamo raccontare la nostra storia, che parole scegliamo, che parole scegli per comprendere, per farti capire, per avvicinarti agli altri. E allora la parola che scelgo io per salutarvi è grazie, che è una delle parole più importanti.